Voi proprio alla vita, eh! Sai che ti dico? Tu non esci! Io esco! Tu non esci! Io esco! Tu non esci! Io esco! Artù, spara le chiamucette! Non devo fare una durata, eh, dammi una mano! Chiamma Michele! Chiamma Michele! Casennossa se la succeda non te la c'è! Alla che c'è! Tu non esci! Ah, no! Parla! Parla! Ma c'è posta, grazie! Ma c'è posta, c'è posta! Anche ora c'è deriva! Mezza mezza notte! C'è bacino! Più o meno! Papo! Mezza notte! Mezza notte! Mezza notte! Mezza notte! Ma ho chiesto per si mettere d'accordo! Uh! Mezza notte! Ti divertitevi! E poi c'è una parola di prova! Sai che ti dico? Tu non esci! Io esco! Tu non esci! Io esco! Tu non esci! Io esco! Artù, spara le chiamucette! Ma no! Io lo devo fare naturalmente! Chiamma Michele! Chiamma Michele! Chiamma Michele! Chiamma Michele! Casennossa se la succeda non te la c'è! A Francia! Tu non esci! Pa no! Pa no! Pa no! Pa no! Pa no! Pa no! Allora state buono! Pa no! 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 Ma ho chiesto per si mettere d'accordo! Mezzano! Tieti, tieti! aspetta aspetta Dorote si come prima